Padova, false penne BIC, giocattoli senza il marchio CE, borse di griff contraffatte. La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato circa 220.000 prodotti non sicuri, tra cui oltre 135.000 giocattoli per un valore complessivo di oltre un milione di euro. Si tratta del bilancio diffuso dalle fiamme gialle dell'attività svolta nella seconda metà del mese di luglio ad oggi attraverso il controllo di 5 imprese gestite da altrettanti soggetti di nazionalità cinese all'interno del centro in grosso Cina di Padova. Tra i prodotti 26.700 penne BIC contraffatte che poi sarebbero finite sul mercato padovano. Denunciate 4 persone.